De Laurentiis, tweet sulla telefonata e rete, e provocazioni, ma una cosa è vera. La telefonata che avete ascoltato tra me è un tifoso, che sta girando sui social e sul web. Ovviamente è ricco di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po', ho detto tutte cose false tranne una, quella sulla Champions. Alla quale teniamo molto. Questo il tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Chi ha destato grande curiosità? La domanda era la seguente, a quale telefonata si riferiva il patron azzurro? Napoli. La telefonata a cui si riferisce De Laurentiis a quella che un tifoso ha pubblicato sui social con tanto di video del telefonico in viva voce e De Laurentiis che rispondeva. Lo vinciamo lo scudetto? No, non lo vinciamo perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni per non vincerlo. Queste alcune tra le frasi, appunto ironiche, dette da De Laurentiis. Che, invece.